Un sacerdote, Lazzaro Longobardi, di 69 anni, è stato ucciso questa mattina a Cassano all'Oionio con un colpo di spranga alla testa. A trovare il cadavere all'esterno di una chiesa è stata una fedele. L'omicidio sarebbe da collegare, secondo una prima ipotesi, a fatti di natura privata. Longobardi era il parroco della chiesa di San Giuseppe nella frazione Sibari di Cassano all'Oionio, nei pressi della quale è stato trovato il cadavere. Il corpo del sacerdote gioceva a terra e presentava una vasta ferita alla testa che ha causato un'abbondante perdita ematica. Sull'omicidio, indagano i carabinieri del comando provinciale di Cosenza, la donna che ha trovato il corpo si stava recando in chiesa. La morte del sacerdote, secondo i primi accertamenti, risalirebbe ad alcune ore prima. È stata trovata sotto il cadavere poi la spranga usata per uccidere Don Lazzaro Longobardi. E' questo quanto si è appreso in ambienti investigativi. Longobardi, da quanto emerso, sarebbe stato aggredito in un cortiletto chiuso da un muro attiguo alla chiesa di San Giuseppe. È dal cortiletto che si accede alla canonica della chiesa, non escluso che l'aggressore conoscesse le abitudini del sacerdote e lo abbia atteso al suo arrivo in canonica.